Oltre 60 anni di silenzio e poi la riscoperta di una pagina di storia molto dolorosa, quella della perseguizione del martirio delle foibe perpetrati dai partigiani di Tito in Istria e dell'esodo di 350.000 persone che hanno dovuto abbandonare tutto in quella parte di mondo che era Italia. Una mostra multimediale presentata al meeting Rimini documenta con precisione quanto avvenuto. È una testimonianza per i giovani. Noi abbiamo all'interno di questa mostra alcuni filmati, alcuni filmati d'epoca ma anche interviste recentissime con persone che hanno vissuto direttamente questo dramma che abbiamo appunto realizzato proprio per questa mostra. Chiaramente l'obiettivo è di farla circolare il più possibile, di lavorare molto con il monto della scuola, con gli enti locali, con tutte le associazioni che ci daranno ascolto e pensiamo che a partire dall'inizio del nuovo anno, specialmente in collegamento con il giorno del ricordo che è il 10 febbraio, di farla muovere a livello nazionale. Un modo nuovo di comunicare che stiamo imparando, che abbiamo capito è molto efficace. Siamo entrati in contatti con un mondo, questo del meeting, che non avevamo mai contattato. Ed è un'esperienza esaltante, soprattutto per noi, perché poi le guide le stiamo facendo noi, le fanno volontari, le fanno persone che hanno vissuto l'esodo e questo colpisce molto. Un'esposizione che è stata accolta con gradimento dai ragazzi che in 10.000 al giorno l'hanno visitato. Un allestimento che dovrebbe raggiungere anche il Veneto, la seconda regione, per numero di esuli ospitati. Io non tollero che la storia, la storia per come è avvenuta, venga nascosta. Io ho approfondito questi temi, specialmente negli ultimi 30 anni, in maniera puntuale e precisa e molte cose che non mi sono state spiegate a scuola le ho dovute raccogliere e conoscere facendo l'autodidatta. Io ero una ragazzina, una bambina di sei anni quando sono venuta via dal mio paese, stridone, che secondo la tradizione ha dato in Natale a San Girolamo. E poi racconto la storia della bambina che se ne va dal suo paese. La bambina, che poi è diventata adulta, interiorizza la tragedia che è stata dei suoi genitori e interiorizza poi da nonna anche la sofferenza che è stata del nonno, cosiddetto rimasto. E conclude dicendo che tutta la comunità Giuliano Dalmata, in quel famigerato 10 febbraio del 1947, è stata smembrata, proprio se ne è andata, costituendo quelle due strani popoli di esuli e rimasti, ma come comunità Giuliano Dalmata è stata disintegrata. Alla mostra del cinema di Venezia sarà presentato anche un film dedicato al tema, Rosso Istria e la storia di Norma Cossetto. Le riprese inizieranno in autunno ed è solo la terza pellicola in cui si affronta il doppio dramma delle foibe e dell'esilio.